Ciao a tutti, ci troviamo su Torrente Neco perché ci è stato chiesto di spiegarvi esattamente come era fatto il complesso di cima del Manos. Il complesso di cima del Manos bisogna andare indietro all'inizio del Novecento. Quando l'Italia era ancora alleata con l'Austria e Ungaria praticamente cosa succede? Succede che l'Italia, non finandosi qui dall'Austria, ha cominciato a fortificare tutti i suoi confini. Durante la valle della Valsabia fu detto a Genio di instaurare delle fortificazioni nel 1903 e fare una relazione nel 1903 e nel 1904. Questa relazione fu portata avanti e furono gli ultimi sei punti strategici dove difendere dove poter costruire dei forti, dei forti blindati. Il problema è che la scarsità dei fondi e soprattutto posti molto, costi molto onerosi, portavano a costruzione di solamente due di questi forti. Uno si trova sotto il lago, che è Valle Drane, si può ancora visitare, e l'altro, cima dell'ora, nel comune di Anfo, sopra il lago d'Italia. Però il posto dove fu costruita più densità di militari fu il comune di Capovalle, nello specifico nella zona che noi conosciamo come Fobia, che è quella zona che va sopra Capovalle, Monte Manos, Carden, scende fino proprio al passo proprio della fobia, e scende fino al lago d'Idra, Clare lo era. In tutto questo frangente praticamente cosa succede? L'esercito italiano creò delle difese che furono stanziate e iniziate nel 1906. Con la costruzione dei forti furono stanziate anche queste difese. Innanzitutto dovevano nascere due forti, uno Manos e uno Ganone, cima Ganone, sempre facendo parte di questo complesso, ma i costi, come ho detto prima, furono abortiti subito e furono costruite delle cose campali. La prima cosa che fu costruita fu una strada militare che saliva dalla Degania e portava fino alla fobia. Da lì furono costruite tre caserme che adesso conoscete come cocaveglie, posto estivo dei ragazzi. Dopo fu iniziato a costruire la zona dell'artiglieria. La zona dell'artiglieria era una cosa, erano praticamente degradanti verso il lago d'Idro. Perché furono costruite degradanti verso il lago d'Idro e non verso Dakarven che andavano verso la Val Vestino? Il motivo era semplice, perché l'esercito italiano scoprì, grazie all'intelligence, chiamava l'intelligence dell'ora, che praticamente la Val Vestino, durante le loro difese, avevano già tolto come primo ostacolo subito l'eliminazione della difesa del paese di Bollone e dell'alturio sopra Bollone. Proprio venivano difese. La difesa doveva passare da Poca Cocca, tenere l'ostino, scendere, andare a Moerna, Moerna, scendere a Persone, Turano, salì da Drohane e dopo andare verso Magasa Caproni. Anche la seconda difesa fu scartata naturalmente perché era troppo impegnativa e tagliarono via Turano, facevano Armo e andarono su verso i fieni di rest. Che dopo, come scopriremo, fu effettuata solo la difesa Tombea, Bocca Cocca e qualcosa sullo stegno e tutto il resto fu abbandonato perché si è reso conto che era indifendibile. Però ormai le opere le avevano iniziate. Invece l'esercito italiano, sapendo questo, scartò subito la zona verso di là e costruì, anche se costruì due piccoli presidi per la difesa. Uno era il Karzen, con l'ultimo pezzo del Karzen, con alcune trinciee, e l'altro era la Fienniglial Bal, a Capovalle, che puntava sopra l'abitato di Bollone, che poi fu girato verso l'abitato di Magasso. Il resto è italiano e allora cosa ho deciso di fare, come ho detto prima, sul caposaldo Fobia che prende, come ho detto prima, tutte le montagne che dicevano. Costruite le tre caserme, costruite le strade, che dopo fu ampliata anche la strada che dal passo della fobia, tra la linea della fobia, arrivava a Capovalle per rinunirsi praticamente a tutto il settore. Cominciò a costruire le artiglierie. All'inizio della guerra le artiglierie erano solo tre in cima al Monte Manos, proprio sulla retta, una e due discendenti sopra il comune a metà Manos, che era la zona della fobia, quota miglia e 300, poi degradanti verso Cler, Monte Pario, Loere di Idro, Fiennigliali Zartini, Vantone. Questa era tutta la cortina che serviva per difendere il confine. Infatti il Monte Estino, che dopo fu pesantemente fortificato, ma all'inizio aveva solo delle trincee, perché il Monte Estino, se ci fate caso, era come l'Avestino, era una piccola protuberanza dentro nell'Austria, perché il Monte Calva era la vetta austriaca, il metà astino sud era austriaco, nonché tutto il Tombea che lo sovrastava e l'Alpo erano austriaci. Allora, sul Monte Estino, si fecero solo delle trincee di confine e dopo fu fortificato più avanti. Come detto prima, la zona del Manos, oltre ad avere questa difesa qua, aveva anche delle difese strategiche che passavano dal dorso tre termini, dove avendo delle difese che furono girate verso la Val Vestino. Anche queste furono iniziate l'inizio della guerra, poi non furono abbandonate, e cominciarono a fare dei collegamenti verso la zona di Campei, verso il lago di Garda, e furono fatte delle mulattie che salivano dalla fobiola, aggiravano lo zingra e arrivavano lì, anche queste sempre per la difesa. Rimasero tutte invariate fino all'avvento di Díaz. Quando arrivò Díaz, praticamente cosa succese? Nel arrivare con la tecnica di Caporetto, praticamente da parte degli italiani, e il riflacciamento e il rimpasto della difesa, anche qui vennero rimpastato e vennero rifatte completamente le difese, perché una volta con la paura dell'espondamento studiaco, se le difese dell'inizio della guerra erano per offendere, adesso dovevano essere fatte per difendere. E infatti il Monte Manos fu messo dentro in un caposaldo, praticamente per la difesa a oltranza, anche perché passato il Monte Manos sarebbe arrivati a Gavardo e, scusatemi, a Vobano e poi nella pianura Bresciano. Allora cosa si decide di fare? Monte Manos prendeva praticamente il centro dell'artiglieria, come doveva essere quando c'era l'attacco, questa volta in difesa. Infatti sul Monte Manos fu vennero portati delle difese antiaeree, delle difese in in vasca e delle difese di artiglieria. Furono fatte tutti i tipi di difesa per un semplice fatto e furono aumentati le piazzole, i pezzi, dalle 6 iniziali, come ho detto, verso l'offesa, diventarono 18, diventarono 18 cose e nonché arrivarono anche le difese che si prolungarono da Carven fino a Monte Pallotto e si andavano a unire con le difese di Castello di Caino, Monte Pizzoccolo e Spine per fare praticamente una linea. Si interrompero i lavori perché doveva essere tutta una trincea unica, doveva essere tutta una cosa unica, ma in molte zone non furono edificate, non furono costruite, furono fatte solo i capisaldi perché era terza linea e perché erano state messe come ultimo baluardo e perciò erano in costruzione e in prevenzione nel 1919 queste difese. La peculiarità del Monte Manos è che era la zona, come ho detto prima, di artiglieria, ma aveva anche la rinunzione della guerra, come ho detto prima, mi sono dimenticato, c'erano le teleferiche che erano solo due, mentre a fine della guerra siamo riusciti a puntare nuove teleferiche, queste da Molte Manos, Garden, Pallotto, Gannone, Cimario Secco e tutte le altre zone. Da qui come venivano fatti i trasporti? I trasporti venivano fatti in due modi. Per la zona Stino-Capovalle venivano issati su dei barconi che arrivavano alla stazione del treno di Idro, barconi, venivano su dalla mulattiera, nonché dalla strada che stavano nascendo, e arrivavano a Capovalle, mentre qui i rifornimenti arrivavano direttamente alla Regalio, scendevano in stazione a Vobacano e venivano portati con autocarri fino alle caserne e dalle caserne venivano issati sulle teleferiche, sulle varie teleferiche per portarli alle varie postazioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere quattro tre diari che parlano di questa zona, poche pagine, solo costruzione di opere, però che ci hanno spiegato bene come era la zona delle teleferiche. La zona delle teleferiche praticamente c'era la zona di smistamento che era la caserma bassa o anche magazzino che era la Cuccaveglia 3 adesso, quella che resta praticamente ancora sulla strada che è in Sudaino. Da lì venivano portate a Cuccaveglia 1, che era la caserma quella più grande, quella che c'è ancora adesso, e quelle per gli animali venivano spostate a Cuccaveglia 2, che sarebbe quella in parte, dove c'è la chiesetta dove c'è il campo da tenda, la boccia e tutto, e lì venivano messe stipate nel magazzino e dopo venivano portate su. Su questo diario venivano riportato che in cima a molte manos normalmente c'erano 4 o 5 guardie e una ventina di persone che lavorava come genio. non che nel 1918 fu portata su un'aziettisa antiaerea che funzionava tutto il giorno e c'era su un mitragliatore che è postato ancora con la sua base tonda nell'anticima del Monte Mano Sidi e Dedene, che era praticamente postata lì. Da specificare che in questa zona c'era anche la Cimario Secco, che aveva le sue due vasche, che puntava verso Cosa, c'era Cimaganone che anche questa aveva sulla sua vasca, che puntava verso Cosa, e poi l'edificio di quelle più vasta e la popola, che erano da supercavallo, dove c'era la pezzolla per portare un mortaio addirittura di medio calibro, c'era Montepadio, questo spianato, e c'era tutta la zona che scendeva da Claire, che anche lì c'erano le postazioni, dove c'è un capanno, dove si mette lo scout adesso, di sopra c'era un capanno, e lì viene puntata sulla fileria, e dopo c'era giù l'uere di vidro, che erano imboscate dietro il camisino per poter fare una cortina che arrivava giù fino al lago, con dei mortai, piazzoli mortai, nonché i fiumi di Rizzardi, che poi declinava verso Vantone, dove sopra la galleria di Vantone, appena costruita durante la grande guerra, c'era un piazzolo che sparava in fondo al lago, volendo, o poteva usare anche un mortaio per sparare dietro la talla. Tutto questo, con la fine della grande guerra, arrivano i tedeschi, linea Tod, per tenere impegnati in ottimismo i nostri legici, nonché la gente che era qua, per non farli morire di fare, per tenersi in comune, fu costruita anche la linea blu, la linea blu della seconda guerra mondiale, fu utilizzata anche, fu praticamente utilizzata queste montagne per la linea blu. Il Monte Ganone, specialmente, fu costruito un fortino, e fu costruito le difese alte, che bucavano verso l'arrivo di Brescia, il Monte Banos, quelle delle sue piazzole, quelle dell'artiglieria basse, quelle del 249, le quattro piazzole che trovate nella zona folgariera del antecino, praticamente i lì, utilizzate i tedeschi, girate dall'altra parte per sparare, e dopo c'era anche la zona dei tre termini, sempre anche lì, girate per sparare. Però cosa volevo dire? Questi posti qui vi porteremo a spiegare, c'è una spiegazione molto 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 veloce, però troverete tutto sulle difese di tutti i piccoli capisaldi, con tutte le postazioni, con tutti gli altri video verranno messi. Abbiamo contattato il tipo 50 campali, e ve li andrete a trovare voi. Speriamo di essere stati utili per spiegare un po' il momento, così ci vorrebbe un video almeno di un'ora, un'ora e mezza per spiegare tutto. Queste sono le cose più semplici e più veloci che ci avete richiesto, spero che vada bene, e dopo racconteremo anche dei soldati che sono stati qui, dei loro manoscritti, dei loro vari vari diari che mi hanno trovato qua, di cui un racconto di una piccola salina, non è successo niente, un piccolo incidente nella polveriera, o femmile veronese adesso come viene detto, e racconteremo anche dove stavano le tende, perché le tende non stavano sulla strada. Cioè parleremo di Cimelio Gonello, non mi ha mai il nome, e parleremo anche di tutto questo. Adesso non so quando, non so dove, adesso guardiamo per Covid perché deve dire così, ma faremo una serata per le spiegazioni di tutta zona nord, sul ovest e est del lago, per spiegare tutto queste cose così. Questo qua era una cosa veloce perché mi si era richiesto a grandi linee la spiegazione di come era messo giù la fronte su Monte Manos, qualcuno deve fare delle escursioni, non lo so, e comunque questa è la spiegazione a grandissime linee del Manos. Non fu mai sparato il colpo, questo ovvio. Ci siete su, vi spiegheremo sia il Genio, le compagnie del Genio che sono stati qua, sia la fanteria che è stata qua, sia i territoriali che sono stati qua, e vi racconteremo anche la storia di contrabbando, che all'inizio della guerra c'era un contrabbando tra Passo di Vesta e la e la zona di Capovalle, tra i valvestinesi praticamente, gli esbrugici e gli italiani. I valvudici di solito i valvestinesi praticavano tantissimo con il carniano, ma furono, facciano sposare molte famiglie Capovalle e Valvestine per poter fare i loro, praticamente i loro passaggi di contrabbando tra Italia e la nostra mogheria. A conto del mondo di questo, e buon viaggio, mi raccomando, andate a vedere questo posto che merita. A presto! Grazie a tutti.